Riparti con noi al ristorante Bay Bar ad Arezzo in via Sette Ponti. Sabato 26 giugno, serata karaoke con Beppe e Marco e un menù Toscano Doc. Antipasto toscano, lasagna al ragù, risotto ai funghi, arista alle mele, patate arrosto, insalata, crostata e vinsanto. Tutto a soli 20 euro e con la musica di Beppe e Marco a farti compagnia. Che aspetti? Prenota al Bay Bar.